Nella giornata mondiale senza tabacco, per gli studenti della Sapienza la vita scorre come tutti i giorni. Anche se ad opassi da loro sono state organizzate due iniziative per sensibilizzare loro a smettere di fumare. La prima è la campagna Spegni il fumo, accendi la vita. Qual è l'obiettivo di questa campagna? L'obiettivo è far capire che si sperperano tanti soldi per comprare tabacco e dare questo messaggio facendo capire che si salva la propria vita smettendo di fumare ma se ne possono promuovere altre di vite, per esempio con l'adozione a distanza con una minima porzione del denaro che prima veniva speso per le sigarette. Quindi calcoliamo che con 7-8 pacchetti di sigarette al giorno si può adottare un bambino a distanza. Abbiamo istituito questo centro Unitab per sensibilizzare i ragazzi sui danni provocati dal fumo. Quindi siamo aperti per dare informazioni o puscoli e abbiamo appoggiato questa iniziativa proprio perché molti ragazzi che fumano ci hanno chiesto appunto cosa posso fare con i soldi risparmiati dalle sigarette. avevamo fatto una serie di proposte non fumando per una settimana, un giorno eccetera puoi comprarti un cd, un libro e adesso possiamo aggiungere puoi anche adottare un bambino a distanza quindi puoi dare un valore etico a questo tuo denaro risparmiato. 11 milioni sono gli italiani fumatori chi smette con i soldi risparmiati potrebbe adottare un bambino a distanza grazie a Ricci Italia o Lus. Quanto costa adottare un bambino a distanza? Costa 83 centesimi al giorno nel nostro caso sono 300 euro l'anno quindi poca cosa se si pensa a quello che spendiamo insomma aiutare un bambino penso che sia valga la pena. La seconda iniziativa organizzata alla città universitaria è Help per una vita senza tabacco questa iniziativa come aiuta gli studenti fumatori? Questa iniziativa che comunque nasce 4 anni fa ed è un'iniziativa comunitaria perché la Commissione Europea sta svolgendo le stesse attività su tutti i paesi membri aiuta i giovani facendogli un attimo pensare a quelle che sono le effettive vantaggi e gli effetti svantaggi del fumare da quelle che sono le problematiche relative alla salute piuttosto che quelle che sono le problematiche relative al portafogli perché fumare non ce lo dimentichiamo costa un sacco di soldi è una campagna informativa, una campagna un po' giocosa anche volendo una campagna che in qualche modo non ti deve far venire l'ansia del fumo però semplicemente rifletti e pian piano impara ad adeguarti Gli studenti hanno potuto effettuare il co-test che misura il tasso di monossido di carbonio nei polmoni l'abbiamo fatto anche noi, 9 è il tasso nei polmoni del nostro cameraman fumatore di vecchia data e 1 è il mio, non fumatore Che cosa ne pensi di questa iniziativa? Bene, bene perché questi problemi devono essere affrontati non con norme o qualcosa di drastico ma creando una cultura di questi problemi e quindi ponendo delle soluzioni culturali come l'alcol, il drogo e tante altre cose Grazie